Emozionante, mi hanno colpito le parole di Nicola Piovani e del Presidente della Repubblica. Sono state eloquenti, precise rispetto all'importanza e alla centralità del cinema e della cultura nell'Italia, in questo momento difficile, quindi io sono contento personalmente di essere stato nominato per la prima volta ad attore protagonista. Un film a cui sei molto legato? Un film al quale sono molto legato, fatto con Sergio Castellitto, con Jasmine Trinca, anche lei nominata. La coronazione è già una grande vittoria per me, per cui sono contento.